Ciao a tutti, cari amici, amiche del segno dei pesci, eccoci qui a mia compagnia con il vostro rosco per il mese di marzo 2023, quindi questo è un rosco mensile. Se vi lasciate un like, un commento e un feedback, sarò dito di rispondere e vi iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Vi ricordo che queste sono energie generali, quindi non sono valevoli per tutti, per quello vi invito a optare per i miei consulti privati di cartomanzia. Vi lascio qui sotto tutto nel box di informazioni. Benissimo, cominciamo a indagare attraverso le prime due carte sull'energia appunto di questo mese di marzo 2023. Vediamo, abbiamo la carta possedere gli strumenti utili, carta numero 70, e la carta il vero coraggio è quello di pretendere da te stesso quello che realmente desideri. Quindi le carte sono chiarissime, qui avete tutte le potenzialità, tutte le basi, tutti gli strumenti a vostra completa disposizione per appunto pretendere da voi stessi quello che realmente desiderate dalla vostra vita. Quindi sorridete alla vita perché giungeranno a voi delle ottime opportunità anche di crescita e di evoluzione. Costruirete qualcosa di veramente grande durante questo mese di marzo. Però dovete avere il coraggio di pretendere da voi stessi quello che davvero volete. E davvero, se voi credete in qualcosa, dovete anche cercare di affermarlo dentro di voi. E vedrete che questa affermazione positiva permetterà di far smuovere l'energia e sicuramente di avere ottime opportunità per appunto creare la vita che avete sempre desiderato. Quindi qui c'è area comunque di profondo rinnovamento e qualcosa o qualcuno che sicuramente giungerà a voi per finalmente darvi quel pizzico di felicità in più che aspettavate da tempo. Qui avete tutti gli strumenti a vostra disposizione per costruire passo dopo passo e giorno dopo giorno la vita che vorrete. Nel rapporti interpersonali, nell'amore, nell'amicizia, anche qualcosa appuntista familiare o di collaborazione professionale. Ok? Ma andiamo avanti. Abbiamo infatti il 2 di bastone. Qui il 2 di bastone è una carta di organizzazione, una carta di scelta. Dovete sicuramente, alcuni di voi lo faranno, decidere il da farsi. E in alcuni momenti riuscirete anche a cambiare mood comportamentale, a cambiare approccio, a cambiare prospettiva nei confronti di quella situazione, di quella persona. Riuscirete anche in alcuni momenti a direzionarvi per ampliare i vostri orizzonti. Quindi il 2 è sempre una carta di organizzarsi e una volta che vi siete organizzati bene, riuscirete comunque a compiere quella scelta. A scegliere da che parte appunto andare e verso quale obiettivo è utile e prioritario indirizzarsi. Abbiamo il 9 di Gabriele, infatti il 9 di Gabriele è una carta molto bella perché qui questa carta vi dice di essere determinati, di andare avanti. Cioè comunque sarete maggiormente attivisti, riuscirete a compiere quel balzo in avanti. Il 9 di Gabriele è una carta molto molto bella. Dovete sicuramente prepararvi a qualsiasi evidenzia, ok? Quindi sicuramente una volta che avete compiuto questa scelta, avete costruito qualcosa e avete capito anche come incanare energie, riuscirete comunque ad affrontare tutto quello che c'è da affrontare, ok? Sempre a testa alta. Qui abbiamo come ultima carta la falce. Molto probabilmente perché c'è questa carta? Qui può esserci comunque sì una decisione improvvisa che prendete in maniera improvvisa, però qui questa falce vi dice di prima di tutto, prima di iniziare in qualcosa di nuovo, dovete rompere qualche schema del passato, qualche convinzione o credenza limitante. Qui dovete rompere un vecchio equilibrio, ok? Anche, diciamo, vacillare un pochettino, ma questa rottura, anche una rottura di un rapporto che ormai è deleterio, è importante per mettere e per porre nuovi paletti, ok? Per andare verso nuove direzioni. Poi qui in alcuni momenti, cioè in alcuni casi ci potrà essere una separazione, una rottura di un rapporto, ok? Ripeto, prenderete anche in maniera improvvisa una decisione. Quindi c'è una scelta, sicuramente qui c'è una scelta comunque da fare e da affrontare. Però sicuramente non rimarrete così con le mani in mano, sarete maggiormente dinamici, maggiormente propositivi e sicuramente riuscirete, ripeto, a costruire il futuro che vorrete e ad attrarre a voi quello che realmente desiderate attirare. Quindi che cosa vorrete, volete dalla vostra vita? Cercate un attimino di capire quello che volete e poi modificate determinati aspetti della vostra vita, ok? Benissimo cari amici, lo aspetto sempre qui sul Tacomel. Ciao a tutti, alla prossima!